Musica Allora, partendo dagli anni 40, i scolari della quinta elementare, il maestro, e ne portava in piazza, sulla finestra che era la radio del dottor Largaioli, si ascoltava i discorsi dei Mussolini, anche quando fa la dichiarazione di guerra, la piazza del povo era come una scatola di fiammiferi. E' tutti battuto le mani e dopo la guerra nessuno era fascista. E' uno dei discorsi che dopo se ne va a scuola e se fea il tema, mi è restante impresso il discorso sulle cui le sono ruote la nazione in vecchia decade. E poi c'è gli anni, mi sono sposato, cercando un'ostetrica perché aveva tanti matelotti, e il palegname mi ha portato quattro sceglie da Monguiglia. E ho detto, mi porti altri sceglie perché non voglio a Mendese e a Matelotti. E sono restato senza perché mia moglie l'ha portata agli altri. E per vedere la tavola con 10 persone dovevo aspettare a compiere i 90 anni in Ucraina, che avevo dotato una famiglia dopo che è morto mia moglie. E mi ha fatto la festa di 90 anni, ero in 15, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è la tavola. Sì, la fortuna di poco, anche come mi raccontava mio papà, perché mi penso che sono l'ultimo dei portaletteri del Trentino, uno degli ultimi assunti con la legge austro-ungarica. Fino agli anni 54, la legge l'era che il portaletteri titolare è il dover di avere l'aiutante e saper tutte le robe. E come ripeto, a Trent, in ginocchio, degli anni 50, che sono stati assunti, degli anni del 1910, dopo che muore mio papà, a mettere nei cassetti, avevo trovato una lettera con mio fratello Corrado, Egregio signor Pontalti Pietro. Si chiede, con scienza e potenza, il parere per la famiglia di Les Arcadio sia necessito di sostentamento. E mi dice, mio fratello, guarda, dice che la porto sul museo, perché è un peccato che la vaga persa. Sì, sì, ho detto, se no l'era da fare in quadritti, è matto. E vieni qui al museo, che porta sulla lettera, che dice il Presidente, lei è molto importante, e mi dice, ma perché il che ha domandato il postino, se c'era sui gendarmi, che è il sindaco e quel parroco. Anche oggi, in Austria, in Svistria e in Germania, il porta lettera è il più importante, perché gli altri li cambiano ogni due anni. Il postino è 200 anni, che è sempre quello, e c'è le robe. E infatti, fino a qualche anno fa, il postino, il parroco, il medico, e il 3-4, l'era quel che già stava al paese. Adesso sapevo, non c'è più l'ostetica, non c'è più il postino, non c'è più il parroco, non c'è più il comune, non c'è più niente. Mi sono stancato, avevo 20 anni praticamente a Rosovien, e in Calonica, se erano obbligati a dirgli al parroco se c'era qualcuno dei malati, che è questo, che è quel, che è quell'altro, quelli che ha bisogno, o quell'altro che non ha dei bisogni. E dopo, ho fatto anche parte della Caritas, sempre del paese. Adesso queste robe, che non le che più, sì che le robe le va come che le va. Allora, praticamente, a 18 anni, mio fratello, è nato volontario nella Marina, e con la storia che si aveva bella, che si è partita con la nave scuola, e si è praticamente, è andato in Germania, anche per imparare il tedesco, perché erano mezzi tedeschi, mezzi italiani e compagnia bella. L'8 settembre, si è trovato a Genova, lei arriva a scampare, lui era del 23. All'8 settembre, lei arriva a scampare da Genova, e lei arriva a casa. Cosa è successo? Due, tre di dopo, gli ha messo ora il cartello, che chi che non si è presenta a Trento, gli viene dopo condannati, e è portato in presenza. E si è iscritto alla scuola, insieme a altri tre da povo, alla polizia trentina. Gli ha fatti sei mesi di scuola, lui è venuto fuori con i gradi di Sargenti, e il Pizzerini con quel del caporal, e quell'altro, altri due soldati, insomma. Ecco, ora lui l'ha messo a Casteltesin, a comandare la caserma di Casteltesin, che era i partigiani, dopo i miei partigiani. Ma alla fine del 43, del 44, l'autunno del 44, la viscola si metteva male, praticamente, e si ha messo d'accordo con i partigiani, perché se lo ciappava, veniva fuori il patatrac, dopo che l'era con i partigiani, l'ha ciappato il Trudischi su dopo Borgo, e l'ha messo in presenza a Roncino. Da Natale, del 44, il dottor Kenic, e il dottor Maior da Povo, che era Todeschi, e amici di famiglia, l'està l'unico che era in presenza a Roncino, a salvare il corrado, e l'ha portato in presenza a Trent. E praticamente, in aprile del 45, l'ha messo in presenza, e insieme con altri dottori, la caserma, l'ha fatta lì in rotonda, e per 5-6 mesi, l'ha giostrata a Trent, e dopo si ha sistemato le robe, e l'ha messo in questura. Ma dopo, quando è che, del 46, è roti, l'aveva trasferire a Napoli, e mi fa pagare, e mi ha detto, no, le miei, ho ottenuto le licenze, e se che ti lavoro da qualche banda. E praticamente, l'è stata assunta in provincia, e dopo l'ha fatta il segretario, prima il senatore Dalvit, e dopo a Grigoli, e nel frattempo, la cosa sportiva, l'ha fatta il presidente, della federazione, e l'ha in pensione, sono morti due anni fa, 93 anni. Praticamente, l'Aurora, l'è nata nel 47, a Povo, per mezzo, di Don Gino Broccardo. Nel 45, io cambiai i padri, i capellani, per diversi anni, che non c'era i spostamenti, e arrivo a posto, Don Gino Broccardo, e subito, a fare la squadra del calcio. E dopo, se è nato in maggio, un pinè, in bicicletta, i primi tre, che arrivavano, hanno offerto la colazione. E da lì, la sera, dopo l'oratorio, abbiamo detto, perché non fanno la società, anche per le biciclette? E ora, abbiamo scritto, la società, le biciclette, e il Parigi, che aveva vinto la gara, in pinè, aveva fatto la gara, la Povo, Masson, e l'ha vinta. E dopo, la Ponte Alto, insomma, per farla breve, del 48, la Povo, erano tutti i matelotti, e non c'era soldi, il mio fratello Corrado, il Vittorio Mers, e quelli che avevano 10 anni, di più di noi, gli ha portato l'Aurora Trent, e gli ha fatto presidente dell'onorevole Rielfer, e l'è partita, praticamente, dal 48, da Trento, ma la nascita dell'Aurora, l'è 47, perché si guardano col calcio, Giacomoni, i due fratelli Giacomoni, correvano a pé, e Stefano, con i sigli, l'era polisportiva, insomma, e sono arrivati nel 2023, e sono qui che l'acconto. e sono qui che il Vittorio Mers. Allora, i primi anni, di che avevo la lambretta, tanto per dire che non è, vengo a casa, la sera, alle 7 e 4, alle 7 e mezza, e che in boccia, che vanno su un bicicletta, e vengono a andare a casa, ne aveva sempre da Ponte Alto, perché era più asfalto, che non era la strada degli anni 60, non era la strada che adesso. e questa boccia che vedeva, che ne aveva veramente bene, a Ponte Alto, lo fermavo, dandoci la boccia, da madrano, da te ciamen, dal colmo Giorgio, dammi l'indirizzo, che bisogna parlare a tuo papà. La domenica di sera, va su a suo papà, e lasciava venire a correre, e mi accompagna con la forza, la porta di casa, che me matelotta, le lascia stare, e non cuore che corra in bicicletta. E mi, invece che andare a casa, sono andato al parroco, e ho convinto al parroco, che convinca suo papà. e le veniva a correre, e col Giorgio da Colmen, ho vinto il campionato italiano, a Sanremo, la Coppa Borin, tant per dirne uno. L'ultimo che è morto quest'anno, in Mars, è Renzo Corradini, che era nato nel 43, a 14 anni, e parte da Tejer, che era da Val di Non, e venne a tren la mattina in bicicletta, e si ferma a mezza corrona, a dire che se lo tolva a correre, e che dice che non è che ha posto, che è che non sa. Lei veniva a tren, è andata a Spina Sport, è andata alle altre società, e nessuno la tolva, perché a guardarlo, era a metro e quaranta, non era da vedere il ciclista. Alle tre, dopo dice, no, ora ti va a dare l'ermano Mugere, e l'ermano Mugere, che fa un biglietto, ti va a poco, e dico che te lo dimmi, che ti toga. Lei veniva a poco, e mi ero con la posta, sono andato a casa alle 5 e mezza, e l'era anche senza disnare, sto a fare matelotti. Insomma, ho dato la maglia, le braghette, e ho detto, mi sono che veni asciugato il tuo papà, perché mi paga le firme e le carte. Sono nascuto con la melambretta, e il tuo papà mi fa le firme, i telefoni non vennerano, e l'alti non vennerano, e gli ho detto, ti fai, e gli ho detto, cosa che non devi mangiare, perché quando ho fatto la corsa, di direttore sportivo, mi ha dato una lista, così, di cose proibite. Adesso basta chissà fare l'inglese, non vuole più mangiare, puoi mangiare con chi vuole. Praticamente, il sabato, ti vieni in bicicletta a mia casa, e la mattina, non è a Trent, e fanno la prima gara, Trento, roveretto, e ritorno. Il boccia, vengono, non è a dormire, la mattina, non è a cuore, partendo da Trent, roveretto, ritorno, primo Corradini, secondo Piccoli, 13 domeniche, 13 vittorie, è il campionato italiano, il sé mangiava le mani, e dopo che sta qualche giorno, mi ha detto che lo drogò, perché nel mondo, ma le lingue le che sempre, come ripeto, questo Corradini, tutta la vita, si è stato in contatto, la Coppa d'Oro, è un'avventata, da Carlo Dallatore, all'Aurora, per noi direttori sportivi, che ci fanno, sul piano, ad andare a sedere, praticamente, perché il direttore sportivo, lo feceva per l'ambizione, e tante volte, non ci fanno, neanche i soldi della benzina, perché non vennero, che non, mia laurea ora, conneva farmi aiutare, perché erano i sordienti, dilettanti e allievi, e a qualche di un, non erano neanche i soldi della benzina, e non era altro, perché alla Volgara, non erano mica fuori le case, che cadesse, quando è che Parigi, la benzina la Volgara, a po', la dottrina, non era nessuna, Cesare era la Volgara, e per esempio, che era una gara, che la fevano a settembre, che era per qui, che non aveva mai corretto, tanti potevano avere, da 8 anni, che 22, che 23, e mia po', che era su, si chiamava, Renzi Francesco, e così, lei provò, fa un po' di allenamenti, lo preparà, e me l'ha venuta, da quell'anno, e lei ha venuto tante gare, e dopo. Eh, mamma donna, manca adesso, praticamente, sei sempre stato, una delle più importanti, finché noi, Agnullo di Gasperi, del 54, e dopo, le trofate Gasperi, era stato più importante. Allora, la prima marcia lunga, mi ero ospite, del Volpi, non so se sa chi che l'è, e ciò il Volpi, è una banca di soldi, sia all'Aurora, per il De Gasperi, sia al, 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 al veloce, glu trentino, che feva la gara, Trento, a San Cristoforo, e, a San Cristoforo, mi, Roberto Moggio, non lo conoscevo, venne ora, dalla marcia lunga, tutti ne parla, col senatore, dal dì, il Volpi era amico, e dal dì, era presidente dell'Aurora, ho fatto una cena, a mia casa, che ho fatto il Caprioli, era presidente della casa, e mi dice il Volpi, se l'è disposto, e che fa compagnia ai miei ragazzi, e ai miei figli, e mi invidono alla marcia lunga, praticamente mi sono nascuto, e il mercoledì, che la gara l'era la domenica, del 71, febbraio, e mi ero in un albergo, con la famiglia, Volpi, marito, moglie, e figli, praticamente, mi muoge, non so io a chi che l'è, e se ovvio, non alla partenza, per vedere la pubblicità, non c'è niente, non c'è niente, ma così, non c'è niente, ma così, non c'è niente, e domenica che la gara, la sera, se l'è l'autoripolo, mi presenta, da sta Roberto Moggio, e dico, signor Moggio, e mi scusa, ma mi, non c'è niente, non c'è niente, le sovvie di sera, se domenica, che la gara, la fate un sacco, e mi dice, è un mensogno, ma come è un mensogno, che dice, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, monta la macchina, va dentro alla partenza, e non c'è niente, è da fuori da matti, puntati per l'amore di Dio, ti fago carta bianca, dimmi quanti soldi che ti troppi, domani, togli, rangerati di tì. Prima di mezzanotte, sempre all'hotel Polo, che era un tenente di Alpini, che dopo mi era un cammino da caldone, e con di se mi presta vinti Alpini, insomma, per farla breve, dei vinti Alpini, sono restato con desi, alla fine, e l'anno dopo, ho fatto desi poeri, un muratore, un falegname, un elettricista, un ferroviere, un pensionato, e ho fatto la squadra a Pontalti, e fin da altri quattro anni fa, che dopo che ho consegno a tutti, l'Alberto Segata, che è al mio posto, è meglio di me. E qua io le che, a Povo, anche ai studenti, che fanno l'università, non mi crede, che in Piazza Venezia, che era insomma una formenta, non mi credeva, perché mi dice che le piante, che in Piazza di Trent, Piazza di Fera, Piazza Dante, e Piazza Darmi, erano formenti, e anche al Presidente, che c'è a Povo, non mi credeva, che a Povo, gli favo formenti, e gli avanzavano, che erano due molini, e un panificio. i molini, era uno del Moggioli, e uno degli Anis, e il panificio del Moggioli, il Seapan, Povo, per Villa San, Cognola, e Villa Montagna, e gli avanzavano formenti. A partire dal maio, Pener, a Meziano, che è tra i quattro ettari, adesso è tutto bosco, la villa in disastro, non parlante della casa dei contadini, che non avevano apprezzato, e che era dentro, due boi, quattro oache, due maiali, galini e cunei. degli anni sessanta, il mio vicino di casa, raccoglieva il latte, da portare a Trent, le arriva a 12 quintai, a portare a Trent, e poi, quello che consumava, oggi a Povo, 90 litri di latte, 90 mucca, 90 kg di patate, la settimana passata, il conte Francesco Pompeati, tre anni più sovra di me, è in piazza che tolleva le patate, sono lì e gli dice, Francesco, vergognati, guarda che a tuo papà, 60 anni fa, dove in due, 150 quintai di patate, Alberto Sperotto, e ti, ti fai sciolpò mia uva, vergogna, e tu ti ride. E' l'estrino luglio, del 1945, era finita la scuola, in giugno, e mi la prima, e lui, veniva a Trent, Praga e Corte, discorso in canottiera, in piazza dei contadini, in piazza, e che era tre beccarie, sui cantoni, e sono dentro di una, non conoscevo nessuno, e che era dentro di una, era a due metri, metto lì a fare il beccar, dando scelto, da poco, di chi c'è folle, del terro postino, allora, tua mamma, e l'Aurelia, sì, ora sono proprio contenta, se ti vieni, ma diciamo, che ti dici, che la te fai, le brache lunghe, le scarpe, e il grombiale, e dici, che sono contenta, perché, tua mamma, senza parenti, era da Vila San, i puntanti da poco, i cianco, i mariti, di quei merleri da Vila San, insomma, erano quegli anni lì, su di corsa, mamma, e mi dice così e così, fin ponte sberle, ti ha lavorato, ti vai quando te lo dico a me, e da lì, quella storia del beccar, che mia mamma, non la mi ha, nasce, due, tre di dopo, la mera passata, sono lì, in piazza di Fera, da tiracadena lì, che c'ha, il digestivo, i capelletti, metto lì a lavorare, sì, ma bisogna che dici a tua mamma, che ti fai le brache, non quella cosa, vado a casa, buona trasverla, ti ha lavorato, ti fanno delle gommie, e dopo di snar, che lo dico a me, il ferruccio, un altro, mi ha costruito, che il meno, io lo tol, le morte anche a quel, due o tre anni fa, che era sempre sta lì, praticamente, arriva il mese di agosto, sento fuori in cosina, mi cugnate, che c'era, e fuori da quel letto, che ti vai a lavorare, mi sono, mi sa piangere, mi cugnate, fa il muratore, e mi credeva, di andare a fare il muratore, non la meneva, non va, mi ha trento così, guarda che ti ha spaccato da me, fa qualcosa che ti dico, ti vai a imparare il calciare, e no, il muratore, a desto otto anni, ti ha il diritto del posto del papà, che va in pensione, e la sera, ti ha giusti le scarpe, e i tomatelotti, e allora, dai, mi sono, sono sta contento, arrivo so, al postaglio, in via, alle pina, e il sr. Paolo, la prima parola che mi dice, senti boccia, se ti vedi, che mi fa qualcosa, che non va bene, non stai a aver paura, se anche sono il paurone, te mi domandi, perché fa questa roba, e ora mi ti dico perché, ricordati nella vita, che bisogna sapere, il perché delle robe, perché se no, l'ha impattata, insomma, per farla breve, due o tre di dopo, e mi dà un biglietto, e che dova a mio papà, e che diceva, il mio bambino, e mi piace, è birichino, ma mi piace, lo tengo sei mesi, se finiti i sei mesi, e diventa un calzolaio, lo tengo, e pago tutto io, ma i primi sei mesi, dove a pagare a mio papà, l'IMSS, il mio papà, che dice, di sì, passai sei mesi, mi dice, di sì, prima di finire i tre anni, ho fatto un par di scarpe, a mia cugnata, e guadagnavo, più minuto di una settimana, che a mio papà, il medico, in quegli anni, li tenevi, il roli marchi, l'estate prima, da Milano, a portare le gomme, come vibra, e mi con la mia borsa, scena del portai, nevo in piazza del Dome, perché non c'erano le macchine, dopo io le compagnie a vela, ma in quegli anni, fin dopo il 50, in Cagliar, non c'erano arti, che guadagnava, ti fai un par di scarpe al D, tenevi dalle 7-8 mila, alle 12 con forma, per esempio, qui a Guardia Boschi, e a certi contadini, ai contadini, ti fai quei sciocci di legno, perché andare nella stalla, con le piscine, la trada, il coram, allora cambiava i prezzi, tollevo 2 mili di men, che quelli del postale, era logico, perché mi tasse non pagavo, compagnia bella, ma praticamente in quegli anni lì, obbligatorio tre anni, finito tre anni, ti fai un esame, da altre due calzolerie, e mi sono nato, da Gadotti, sotto Santa Maria, e l'altra, e Tamanini, che era in Via Grazioli, se ti sentavi solo, la mattina alle 8, ti cagli tutti i materiali, e la sera, che vengono alle 6, che vengono alle 7, che vengono alle 9, e in base alle ore che ti mettevi a fare la scarpa, come che l'era fatta, e come che la risultava, se ne aveva il punteggio dall'1 a 30, e ti eri promosso maestro calzolaio, e ti potevi impiantarti la calzoleria, e se no, non ti caglippavi il punteggio, ti eri ciabattino, e mi fa fortuna, ho caglippato a 30, e sono partito come una tonnada, a fare una banca dei soldi, di un don di mia mamma, perché se la sorella mi toliva, in quegli anni lì, con prestati 50 mila ai miei vicini di casa, a comprare il bo, e ho detto, se mi disgiuro che non glòdi, se ne sono più, perché mi mamma mi toliva. Grazie.